Come è il comune di Napoli? Noi non solo non abbiamo dato nessuna autorizzazione, laddove ci sono state violazioni di regole le abbiamo tempestivamente accertate, sono state elevate multe e sono in corso accertamenti molto rigorosi su quello che è accaduto a Piazza Prebiscito e non abbiamo certo atteso né le polemiche né l'opposizione né le immagini. Cioè la tempestività con cui il comune di Napoli, l'assessore Clemente e la polizia municipale operato è encomiabile. Così come credo assolutamente opportuno trasferire un convegno a cui tenevamo moltissimo, organizzato da Alessandra Clemente, cento passi nel ricordo delle vittime di mafia nella sala giunta. Quindi non c'è stato nessuno sfratto, nessuna occupazione a parte di nessuno. Semplicemente ho ritenuto opportuno, appena sono venuto a conoscenza che comunque nello stesso castello, seppur in luoghi diversi, si svolgevano due eventi così, devo dire diversi, ho ritenuto assolutamente opportuno che non ci fosse nemmeno una confluenza di coincidenze in un attimo, in un battito di farfalla, in una fotografia tra una vittima come la stessa Alessandra Clemente, cioè familiare di una vittima innocente o che ne so di un'autorità istituzionale come potesse il questore che ha partecipato all'iniziativa cento passi. Quindi credo che il Comune, prendendo le distanze ovviamente da questo tipo di rappresentazione farzesca, però quello appartiene a un segmento di città che evidentemente esiste, noi come amministrazione ovviamente stiamo su un'altra sensibilità, ma riteniamo di aver agito in maniera assolutamente adeguata, consola, rispetto alle regole e perfetta. Voglio dire, è una vicenda comunque totalmente diversa da quella che pure è stata in qualche modo accostata, come quella romana di Casa Monica, perché voglio dire, quella si trattava di una cosa riferibile a dei clan, questa è una cosa completamente diversa, di cattivo gusto, trash, tutto quello che vogliamo parlare, ma non ha niente a che vedere con quell'altra fotografia. Non c'è stata nessuna autorizzazione da parte sua, visto che ieri Toni Volombo a Canale 5 ha ringraziato lei e l'amministrazione. Io posso dire che le carte cantano, che altri ci ringraziano perché esistiamo, come dire, ci fa piacere, ovviamente. Quello che posso dire alla sua domanda è che nessuna autorizzazione è stata concessa, anzi, come ho detto prima, purtroppo quello che è accaduto a Piazza Plebiscito si tratta di un'attività irregolare, illegittima e abusiva, altra cosa è attraversare Piazza Plebiscito, fare un flash mob, altra cosa è fare un concerto, un pseudo concerto, attività di quel tipo, quindi non avremmo mai potuto rilasciare a nessuno, a Toni Colombo, come a Gennaro Esposito, come a Pasquale Russo, se non nei casi consentiti dalla legge. Questa è un'amministrazione che rispetta le regole e fa rispettare le regole. E chi le viola, qualsiasi persona sia, viene sanzionato. Quindi devo fare il plauso alla Polizia Municipale perché in questo caso, come tante altre volte, ha agito tra l'altro una tempestività assoluta in un contesto non facile da prevedere perché come noi voi ci siamo trovati all'improvviso quelle immagini della città. Poi se c'erano elementi per vietare qualcosa di altro tipo, che non credo sia vietabile, questo non appartiene al Comune di Napoli perché tra l'altro un matrimonio certo non si può non autorizzare, non si può vietare, questo vale per qualsiasi cittadino della nostra città.